Tre direttrici e una proposta operativa, obiettivo salvare l'economia della Sardegna. Antonello Peru, esponente regionale di Cambiamo Udc, ha esposto stamattina in conferenza stampa la sua ricetta per affrontare l'emergenza coronavirus. Il programma nasce dall'esigenza di dimezzare i tempi tecnici degli aiuti statali e regionali. Il sistema produttivo alle prese con scadenze quotidiane non può, secondo Peru, attendere oltre. Da qui l'urgenza di mettere liquidità nel tessuto economico con l'ausilio delle banche e la disposizione di finanziamenti a tasso zero di almeno 25.000 euro garantiti al 100% dalla regione e da restituire in sei anni. Sullo stesso versante si concentra il secondo punto, ovvero l'immissione di mini bond da parte della regione col tramite della Sfirs. L'ultimo obiettivo risponde a un'urgenza capitale, salvare il salvabile dell'imminente e quanto mai in dubbio stagione turistica. Per questo si consiglia un'emissione straordinaria effettuata dal circuito delle imprese e garantita dalla regione a favore di chi tiene vivo il comparto turistico. Ad ulteriore garanzia, dichiara il politico di Cambiamo, la regione dovrà consentire la possibilità per gli aderenti al circuito della moneta complementare di poter pagare in Sardex le imposte regionali. Tutto questo sarebbe però inutile senza l'arrivo di turisti a causa dell'emergenza sanitaria. Lo screening di massa per il consigliere regionale e i tamponi a tappeto in tutta l'isola possono essere una soluzione per isolare il coronavirus. Quanto agli accessi in Sardegna, PERU suggerisce la certificazione che attesti la negatività al virus. Misure complesse, ma come dichiara il politico UDC, servono decisioni straordinarie e coraggiose.